Lungo momento per i giovani senza le attività parrocchiali a cui eravate solitamente abituati? Sì, infatti per noi è stato un brutto periodo per tutti i giovani perché noi soprattutto che eravamo molto impegnati in parrocchia è stato veramente brutto non rivedere la Basilica, non rivedere i nostri donne, non rivedere San Vincenzo, l'Immacolata e non essere a contatto con i bambini, con gli amici è stato un periodo molto brutto. Perché al di là delle attività parrocchiali c'è comunque la questione dell'amicizia, della forte amicizia che vivete in parrocchia? Certo, comunque siamo un gruppo di giovani e comunque almeno qualche volta il sabato ci incontravamo non solo nella preghiera ma anche con una pizza o con un incontro di amici diciamo. Sia Don Giosuè che Don Antonio non hanno fatto mai sentire la mancanza? Certo, ogni massimo 15 giorni facevamo una web insieme tutti i giovani e appunto per non far sentire soli loro e non farci sentire soli. E questo ci ha aiutato appunto durante la quarantena ad andare avanti sempre, anche se eravamo distanti però eravamo sempre uniti. Quali sono i prossimi appuntamenti per l'oratorio Don Bosco? Ecco, noi animatori stiamo continuando a preparare tanti appuntamenti, ci stiamo organizzando via streaming con delle videochiamate. Ecco, al momento non ci sono molte attività perché appunto la situazione non lo permette, le varie ordinanze non permettono ancora che i bambini possano stare insieme. E noi cerchiamo di guardare il futuro, cerchiamo di guardare già oltre questa situazione e spero di ritornare presto con tutti quei bambini. Ecco, la situazione manca, manca vivere quei sabati, pomeriggio con quei bambini. Come per tutti questa quarantena è stato un periodo non facile, è stata un'alternanza di stati d'animo, siamo passati dall'angoscia, dalla paura, dalla convivenza forzata in casa. E personalmente mi sono dedicata allo studio, però senza mai trascurare la vita parrocchiale. La cosa che più mi ha fatto male è stata proprio quella di stare lontana appunto dalla nostra comunità. I momenti più difficili sono stati vivere la settimana santa, la Pasqua, senza i nostri bambini, senza le nostre messe, senza il gruppo appunto dei giovani. Però con le attività siamo riusciti appunto a accorciare le distanze, con preparazione di canti settimanali, con il coro giovani, appunto con progetti dagli animatori per i bambini, sia per la Pasqua sia per la festa della mamma. Poi ci siamo impegnati appunto ad essere uniti via streaming per la preparazione appunto del futuro, perché non ci fermiamo mai. Però tornare qui a prendere l'eucarestia qui in chiesa, tutti insieme, è come tornare a casa. Quanto è mancato? Quanto l'è mancata la missa, la chiesa, i suoi amici? Per me che è 24 ore su 24, tanto, troppo. Le videochiamate erano sempre poche, perché vedersi attraverso una videocamera non è mai come il contatto fisico, che noi ne abbiamo tanto, ci abbracciamo tanto, ci ridiamo e ci divertiamo tantissimo tra noi. E poi essendo l'unica realtà, oltre quella della famiglia, perché è veramente una seconda famiglia, quindi manca sempre, totalmente. Grazie a tutti.